Ciao ragazzi! Ciao! Avete visto che sul canale delle Crybabies Magic Tears Italia sono arrivati i nuovi episodi? Io e Alissa ce li siamo guardati oggi e quindi ci è venuta un po' voglia di giocare con le Crybabies Magic Tears magari prendendo proprio spunto da una delle puntate che abbiamo visto, che ne dici? Sì! Comunque vi mettiamo il link in descrizione e andateli a guardare perché sono carinissimi! Sì! Ok, iniziamo a giocare! Sì! Non mi sento tanto bene! Oh, sto male! Aiuto, aiuto! Chiamate Dottie! Ehi! Qualcuno ha chiesto il mio aiuto? Sì! C'è Coddy che sta male! Oh! Un attimo, vado a prendere il mio kit da dottoressa! Eccolo qua! Ecco! Misuriamo la febbre! Sì! In effetti hai un pochino di febbre! Devi riposarti! Mi raccomando, non fare sforzi! Va bene? Va bene! Ok! Ci vediamo dopo che vengo a controllarti! Visto che non devo fare sforzi, se mi serve qualcosa me lo devono portare le altre! Ragazze! Ragazze! Ho sete! Ho sete! Oh sì! Ehm... Acqua! Ehi! Dov'è l'acqua? Ho chiesto l'acqua! Ho sete! Ho sete! Ma quanto ci vuole ad arrivare? Sì! Sì! Ma scusa! Ti ho detto a non fare sforzi! Eh! Ma io ho sete! Grazie! Però adesso vorrei un po' di musica! Mi sto annoiando! Dai! Nala! Vieni a suonare un po' di musica per me! Arrivo! Arrivo! Ah! Eccoti! Mi canti una canzone così forse dopo sto meglio! Ok! Jingle bell! Jingle bell! In the hallway! Ok! Grazie! Grazie! Però io adesso ho fame! Ho fame! Ho fame! Qualcuno mi porti da mangiare? Va bene! Va bene! Arrivo io! Ok! Oh! Guarda! Qui c'è un muffin! Ok! Eccoti un buon muffin! Era buono? Sì! Sì! Era buono! Però ho ancora fame! Ho ancora fame! Oh mamma! Che altro abbiamo da mangiare ragazze? La mela! La mela! La mela! Portagli la mela allora! Grazie! Uffa! Ma io mi sento ancora male! Mi servirebbe una magia! Voglio una magia! Eccomi! Ci provo! Abracadabra guarisci! Ha funzionato? No! No! Non mi sento ancora bene! Forse se qualcuno mi facesse un ritratto mi sentirei meglio! Un ritratto? Ma chi sa dipingere tra di voi? Io non so disegnare tanto bene! Io! Ok! Provaci tu! Magari così la smette di chiamarci in continuazione! Io sono già distrutta! Ok! Ora ti dipingo! Ok! Però adesso ho ancora sete! Ok! Ok! Ecco l'acqua! Va bene! Adesso voglio... Voglio qualcuno che mi viene a giocare qui con me! Va bene! Facciamo il castello di sabbia! Ma qui non c'è la sabbia! Ma facciamo finta! No! No! Voglio il ciuccio! Voglio il ciuccio! Ok! Basta! Non ce la faccio più! Oh! Basta! Sono stanca! Pure io sono stanca di più di voi! Io le ho fatte un ritratto! E sono più stanca di più di voi! Ah! Basta! Ci dobbiamo riposare! Ehi! Ma cosa succede? Ehi! Ma che fine hanno fatto le mie amiche? Ragazze! Oh no! Ho fatto stancare troppo le mie amiche! Ma... Cosa succede? Queste lacrime sono magiche! Ehi! Non mi sento più malata! E io non mi sento più stanca! E pure noi! Evviva! Siamo di nuovo tutte bene! Sì! Che bello, cani! Stai ancora bene! Sì! Però... Scusatemi! Se sono stata così antipatica che vi ho chiesto troppi favori! Ma noi... Ma per noi sei sempre gentile! Ma sì! Noi ti vogliamo bene! Siamo solo felici che ora tu stai di nuovo bene! Yeee! Ip ip ip! Urra! Ip ip! Urra! Poi l'importante non è... Non è la stanchezza e pure stare bene! Sì! E poi, grazie alle tue lacrime magiche, ora stiamo tutti meglio di prima! Sì! Però adesso basta piangere! Anzi, andiamo a giocare! Forza! Sì! Dai, venite anche voi ragazze! Ok ragazzi! La nostra storia finisce qui! Speriamo che vi siate divertiti! Noi ci siamo divertite tanto a giocare! In passi! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! Da Silvia a Alissa e dalle Crybabies Magic Tears! Ciao! 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 Ciao!